Musica Proviamo così, proviamo con il cambio Sì, ma il fatto è che me la fa Combronia Cioè, voi pensate solo alla fase 3 Alla fase 3 è ok, ma la fase 2 non è ok Fase 2 non è ok Se io levo Hunt Comincia un grossi, diventa un grossissimo problema Comunque, dai, proviamo così Tanto, oh Non ci vuole niente, al massimo lo rifacciamo Go Ok Direi queste Direi questo che è gigantesco No, no, niente lotto, prendo questo È buonissimo Io non vorrei fare la fine di rio Mi sembra strano che te li one-shotti Perché Chiocata non dovrei one-shottarli? È bellissimo Ah, e la storia può che parecola La storia è arrivata, la storia è arrivata La storia è arrivata, la storia è arrivata E Ok Venivo a shot perché aveva tipo 9 stack 10 stack Arrivavo al terzo stage con 10 stack Questa Se l'ho visto faceva meno danno l'altro giorno Sì no ma dico che poi alla fine ho continuato e è arrivata fino a 11 stack Alla fine del turno ok E abbiamo la prima C'è niente da rompere I have no interest in conflitto Questo è il speed del 3% Ottimo Eh ma son curioso Io vorrei fare quelli dopo Però Cioè ti ricordo che io non ho Non ho le relic livellate C'è niente da rompere Un po' di danno in più Lo fanno un po' tutti Bravo Ok Prendiamo questo qui con il delay No prendiamo l'energy Prendiamo l'energy Perisco l'energy Posso fare un altro rerun C'è niente da rompere Un frost Oppure Quando personaggio Vede Enter Increase di attacco Bot units Il 50% Per un turno Questo non è male Però si rerun Shield challenge Casi dell'attacco A 400 Ok Ok Follow up Remembers No 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 Questo Eh si E' carino Solo che se lo fanno Lo fanno su Genshin In difficoltà Bambino Io ragazzi Ve l'ho detto Che Jepard E' top PG Praticamente Quasi alla pari con Bailu E non è alla pari con Bailu Solo perché C'è uno Un solo healer In gioco Quando ci saranno tanti healer Jepard Vola in altissimo Ovunque Eh Facciamo Abbiamo 4 stack Andiamo Di 3 skill Abbiamo Wealth E E anche Jephy Per prendere Per prendere La stack Non ci arrivo Ok ci arrivo Prendere l'energy Ma ce l'abbiamo Facciamo auto E Qui ancora auto Possiamo curare Lei Possiamo curare Essere triste Da 1 a 10 Ok Le Armi Di Jepard E di Weld Sono Dovresti Essere Meno 10 Triste Sono tutte Buone Non importa Che Che non hai Personaggi Che 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 Grazie a tutti. Prima di fare F1 Se è F1 L'ho fatta da me L'ho data subito al trailblazer Sì sì Eh ottima Perché devo sbloccare Le daily all'off Che mi cambia Non so che cose sono Queste daily extra Strabuttiamo giù Serve generare un po' di Shield Ero dimenticato di questo Letteralmente Ma l'ho già fatto il puzzle L'ho già fatto Rio Come al solito Arrivi dopo la musica È uguale Tanto non sono Non sono Infiniti Sono one time Sono one time No Appunto Quindi non Non essendo giornaliere Non perdo nulla Esattamente Quindi Posso anche non averle mai fatte Sì Ok La battaglia è significativa Ok Sì, le fai solo tre volte The Hunt Ok Eeeh Questa E andiamo Ok, ora qui Enter in Bat Resonance Quando entri in battaglia Rigenera Bat Resonance Energy al massimo E increases Bat Resonance Damage Gigante Opponente Increase All Eidolon Ottima Eeeh Receive Cosmine Blessing Io direi la prima Direi la prima Eh sì Ecco Isa Vedi Se te adesso vai qui Fai F E te qui Se tu avessi il gettoncino Lo usi Fai click Metti il gettone E ti da E ti da E ti da I robini Questo è per prendere I Gli Ornaments Anche se Senza gettone Se tu volessi usare le resine Cosa che però Ovviamente Per ora vi sconsiglio Se non avete livellato Tutto Il livellabile Diciamo O comunque Le cose più importanti Da livellare Allora Cominciamo A infilarci Qui dentro Serval Eeeh Ce la portiamo Dietro Ok Grid damage Ho preso quelli Da laggiù Fai Fighting Is meaningless The truth Of life In the sanctuary Is but a vision Break Let's begin Hope you're prepared Leave it to me Time for a shot Ok Easy Ok Io sto prendendo Tutti The hunt Un altro Raid Mi stanno uscendo Tutti Stai L'attacco È significato No Interest In Conflict You Know Nothing Of Survive Or Be Destroyed There Is No Other Choice Too Late To Repent Cioè ho addirittura I punti che mi avanzano Siamo L'attacco Non è significato Non è significato Non è significato Reset In crescere Il defense Del 24% Oppure Aumenta il crit rate Degli shield Charter Del 16 Anche questo Non è per niente male Direi questo qua Sì Perché il con jepard Aumenta il crit rate Di tutti Fondamentalmente Sì esatto Quella degli hp Massimi E quella Dello split Anche la seconda Era buona Ma la terza Con jepard È meglio Encounter O combat Basta Mi avete sfidato Andiamo a encounter Ho scelto la morte Donna di poca fede Challenge 1 Challenge 2 O challenge Entrambi Ciao Paolo Si rischia entrambi Oppure ne facciamo Solo uno Allora Nihility Nihility Sì no Ne faccio uno Ma l'ho già fatto L'ho già fatto Entrambi L'ho già fatto World 6 Entrambi E l'ho passato Cioè ho vinto Però Scelgo quello Che mi serve di più Tra Preservation E Nihility Qual è quello Meglio Nihility Preservation 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 L'Holiet Quattro Preservation Preservation Andiamo Preservation Mi mette con Ok Andiamo Preservation E Direi Uno Due Avrei potuto fare anche due Cosi eh Perché avevo tutto up Avevo tutto up Allora It To me You know nothing Survive Or be Destroyed There is no Other choice E' un bordello Full vita 12148 In the face E questo è il record Questo è il record Non ho mai fatto più di 11.000 12k di Daneng Dio cristo Dan Che sassata che ha Girato Easy as fuck Easy as fuck Mi ha tipo toccato una volta Devastato Se mi fa danni a O.H. o Jepard Non è un problema Comunque reroll But what do mortals See of the eternity Chased after By their God Shield No no L'ultimo Perché il primo Alla fine Alla fine del turno C'è 80% Dei giorni Che guadagnano Uno shield Pari al 12% Dei loro massimi HP Il primo ragazzi Non mi serve Credo Perché non mi va a staccare Con l'altro shield Di Jepard Credo Non so se stacca Eeeh Non è worth Preferisco il 30% Creel damage Un'altra elite Oh andiamo tranquilli Così Lascia stare server Si lo so Tira giù Gli altri animalini Ora mi serve La E Lo shield Poglia 9000 4008 Di wealth 2 Rip 1 2 2 1 4 1 2 Ok. Quindi non ha altro il senso livellato. Il senso di la vita e la morte, rivela in un instante. Il senso è solo una visione. Capito! Time per una scuola. Ok. È tutto questo? Il combattimento è significato. Lo procchi una volta sola, praticamente. Sì, sì. Non sono video ancora. Il video ancora non c'è. Ma ci sono le infografiche. No, ma non è un problema. Non mi uccide mai questo coso. Bombi. No, stavolta facciamo così. Sì. Questo lo faccio come un pallone. Sì. Sì. Ma davvero? Sì. 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 Ma infatti, cioè, sono tranquillo con Jeffy. Sì. 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 No, lo posso fare lo stesso. Grazie a tutti In the name of Lando A will forged in ice Never falters Stand down Time for a shot Andiamo sul sicuro Andiamo così Serve una E per Natasha Facciamo così Serve una E per Natasha Poi dopo c'è Geppi E c'è di nuovo lui Sicura Geppi Base Qui nuovamente Base Mi sicuro Troppo non tocca il coso Mamma mia You have my gratitude A will forged in ice Never falters Time for a shot The truth of the life and death The sanctuary is but division Break This end here Non ancora Morirai? No, non voglio rischiare Non voglio rischiare, facciamo così E così Oh Niente di hunt Charge value Resettiamo Oh Ok E abbiamo Perfect aim Allora Oh, c'ho quello degli Eidolon, oppure In case damage health by all I'd by 16 Ogni 100 crossmant Buono, oppure Your blessing After me No, il blessing Riet Perché ne ho due Dite che comunque mi conviene Prendere questo del tre stelle Una tre ne manca uno Ok, dai prendiamo questo Questo è l'altro Per prendere i cosini Gli ornaments Che noi non prendiamo Ora ci portiamo Asta Prendiamo un blessing Compriamo Alla ricerca del De ant tre stelle Buono Non è Tre ant Ant tre stelle Comunque me ne ha dato lo stesso Quindi prendiamo questo Questo è il follow up Grazie Giù 420 10 di 13 Discard Un blessing Uno, due stelle Ottieni uno Tra uno e tre stelle Non è che mi piaccia tanto Sì, anche io sarei per lasciare qui E andarmene Via Un po' schifoso questo Qui si combatte Non esiste che non si combatta I'm with you Too late to repent The truth of life and death Reveal the sanctuary Sì, è solo una visione Crank Sì, sì Infatti era fatta apposta Per questo Greenloss Allora Ora Questo ha tutte e tre Le debolezze Butto giù anche Le sue debolezze Però Buonanotte Me l'ha dato Me l'ha dato Numero Ready player one Eccolo After Shark The defect An enemy Advance forward Oppure After 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 Follow up Non ci interessa Internet X Adop Perché Rip Vabbè Comunque sia Lo prendiamo ora Era Era quello in mezzo Del primo Eh ma non è uscito Il del Lo split Ce n'è sempre un altro Weakness Brick Efficience Del 30% Queste Queste Enorme 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 E la E la Ovviamente Avanziamo No Non è detto che la vinco Despite Allora abbiamo detto quindi Abbiamo detto quindi Uno, due Tre E quattro Scusa Scusa Ant Hai serval, vero? Sì Scusa signor Daneng Ma ti rubo la roba Questi vanno bene E scusa Cosa Ma ti ruba le scarpe Cento quindici No Quelli che ci sono Ce ne sono altri Li puoi vedere dal database Però quelli che sono dal database Quelli sono e quelli restano Per ora Fino a che non ne metteranno degli altri Ovviamente Però li rilasceranno man mano nel gioco Un po' come Se giochi a Genshin Un po' come All'inizio c'erano dei set di artefatti Poi hanno rilasciato I millilit I pale Gli emblem Eccetera 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 Ma che lei poverina Tutta a zero Vabbè Lasciamo Lasciamo tutto a zero No 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 Gepard Stavolta non si tocca Ok Siete pronti? Siamo pronti? Non c'è più Gepard Che tira le sassate Ah potenzia Allora Io non voglio sentirseghe Io voglio potenziare Questo Questo qua Io questo lo voglio potenziare Proprio non esiste Al mondo Questo per me È must È must have Da potenziale Ed è uno A prescindere Io questo lo faccio Poi Ora il discorso è Questo me Questo È tanta roba Qua non c'è The turn begins Guadagni una stack Increases the stack limit Of critical boost Di 12 Ma lo stack limit Stacca fino a 8 Quindi massimo Arrivo a 8 Penso che sia meglio Questo che le porta a 12 Terzo Oddio If the defeated enemy Is an elite Enemy L'action Advance for all Halleys Questo pure È tantissima roba Io tipo Finisco una fase Però non so se La sconfitta Dell'enemy Viene contata anche Con Come Sconfitta Di una fase Non procca? Perché se non procca È una cazzata Fa schifo Quindi dato che non abbiamo La certezza Dobbiamo scegliere Tra questo che aumenta Le stack E questo che aumenta Il numero delle stack Però il fatto è che All'inizio del prossimo Turno Vi da 7 stack E il massimo È 8 È 8 stack Secondo me questo Non è proprio Buonissimo Forse è meglio questo Primo Primo Rimane 137 Bisogna sceglierne Uno di questi Crit damage Crit rate Every Every bless Oh questo Questo della speed Aumentata È tantissima roba Grazie Gli Ebex Per il follow Rate Damage Wander Breaks Delle 6 NMX Sì va bene Character Speed Increase Il 30% No 8 12 Regenerazione No ragazzi Per me Dov'è Questo qui Tutta la vita Ciao Liebex Benvenuto Siete d'accordo Che questo è il migliore? Ciao Gabba Benvenuto D'accordissimo Mi astengo Perché quale ti piaceva a te L'Oliot? Faccio questo Te lo dico A me piace questo Però Mi farebbe piacere Sapere cosa ne pensi Quale avresti messo? Per me la speed Ragazzi È una statistica Bo È enorme 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 World 6 World 6 Ok Ok Ma No Devo fare di là Allora Uno E due Prima di usare la Q di Jepard Aspettiamo che Jepard Vabbè ma tanto Jepard C'è già Allora Cominciamo con la E Facciamo la E Guardate là Guardate là Potrei già buttarla giù Potrei già buttarla giù E La butto giù Allora Ora dobbiamo ragionare bene La Lei non fa danno Lei si Quindi la E Sua ci sarà sempre 5k di danno Tiriamoci lo scudo Così cominciamo a prendere un po' di energy Ok è tornata su Molto bene Rifacciamo il bounce Facciamo la E E Facciamo Uno E Possiamo rifarla anche un'altra volta Ho base Ho base Si fa la E Sì Si si E qui si fa La E Non quella è fa danno 6.5k Ehm Inutile tenersi La Q Tiriamogliela subito nel muso Le abbiamo un 6% E poi Facciamo Una di queste Daze Lo scudo È finito Attacco base Le 8 di attacco base Abbiamo doppia stack Uno E due Ok Quindi facciamo Uno Poi la E Attacco base Più shield E Abbiamo 4 stack Di skill Base Ancora E Stato land Ho stato lento Posso fare la E A parte che ha fatto danno solo sullo scudo Base Ehm Ho 3 stack Possiamo guadagnare Possiamo fare una E in più Per prendere un po' di energy Per lo scudo Per tutto E ora base E Nuovamente base E Le 6 Blaze Lei muore ora Quindi è inutile fare la La ult di Di asta Sì sì lo so lo so Dovrebbe morire con lei 1% Non la uso E dovrebbe andar giù Vabbè Ah no È andata giù Meno male È andata giù Di shock Un mondo Un mondo Devonato Allora Ragioniamola un attimino Facciamo Il Facciamo La R Subito E Poi Ho sbagliato Dovevo fare la R Cioè il 3 Ora Facciamo Così Poi Facciamo Ma la voglio rischiare Ma non voglio nemmeno Andare troppo in là Sì Ragazzi lo so di Bronia È inutile che me lo Diciate in 60 Lo so che devo fare Tutto su Bronia Calma Devo pensare come fare Questi cosi Perché questi cosi Non li butto giù Probabilmente Con una R Però Se lo butto giù Mi torna Se non lo butto giù Non mi torna E le butto giù Dopo e mi ritorna Quindi provo lo stesso Ok Ho due stack Facciamo così Allora Punto numero 1 Facciamo Questo Poi Punto numero 2 Sono senza lo scudo di Jepard E lo scudo di Jepard Non lo avrò Quindi Dobbiamo salvare lei Punto numero 3 Usiamo Asta Punto numero 4 Dobbiamo andare Sotto di lei Punto numero 5 Quei sono cazzi Amari Perché non ho lo shield E ho paura che lei mi muora Mi muora Lei mi muora Però Io qui potrei buttare giù Lei così In realtà Ti farò così Mi farò così Mi farò così Perché così Lei Non rompe i coglioni Mi basta l'attacco base In realtà No perché anche Anche Bronia È Così È piro Quindi vado su di lei Ok Ok Ora Questo È un po' un rischio Perché c'ho Serval Però io Serval Non la uso Ok posso usare L'attacco di Serval Con Jepard Perché mi serve Per forza La head di Jepard Allora andiamo così Nice 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 Si è sculato E ora Nice Allora Facciamo così Tanto E La ricarichiamo Prendiamo un po' di stack Devo ricaricare le stack Perché non ho Non ho skill point Attacco base E ancora Attacco base Ok Pericoloso Molto Pericoloso Non ho mai sentito Questa cosa Fire Allora Facciamo Si Poi Così Poi Così Poi Così Sono a 4 stack Base Su di lei Indifferente E qui Devo curare Natasha Rischia di morire Mamma mia Mamma mia Cazzo Sopravvivo Oh Oh E muori Cristo Santo Qui Dobbiamo fare Tutti i autoattacchi Perché qua Ci dobbiamo Prendere Questo E lo dobbiamo Tirare su Qui Dobbiamo Tirare su Asta Ok Ancora base E Facciamo il 3 Però lei torna fra quando No me la tengo questa Ok Facciamo la E con noi Curiamo Natasha O serval Serval Curiamo tutti Ok Ho catenato tutto Ora Aia Aia Mi conviene il base Qui Per fare la E Qua Ehm Asta è senza Shield Asta Asta è senza Shield I shield Via Torno base Non Asta Ok Qui facciamo Base E qui Facciamo E Madonna mia Che fatica E qui Ci Farmiamo Gli Skill Point Questa 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 Massa di uomo Ok Non lo so, non penso di prenderlo Ora Attacco su sto troiaio Posso fare Mi conviene fare doppia R E via Ok Allora Qui ragazzi crea qualcosa Nell'ultima fase Non crea nulla Quindi io posso tranquillamente Spammare le R a cazzo Fondamentalmente Ah lo spamma è il doppio troiaio Le crea? Eh allora non posso usarle Allora Poi e Oh 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 Madonna mia che cazzo di paura E Allora Facciamo Due Poi Attacco base Perché qui voglio Nivellare L'energy per Geppi E ce la leviamo dalle palle Ok Ora Base di nuovo Base di nuovo Ma attacca anche da Da FK Ma che cazzo significa Quanto mi sta Questo Un turno Siamo così Che Ci C'è 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 O C'è C'è D' C'è Ah C'è 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 Natascia, Silly e Serval Penso di sì Silly tanta roba Ok Qui non sta mettendo nessuna torretta però Volca puttana Senti una gliela tira A quest'ora ne avevo già tirata una Eh no, non posso, dobbiamo andare di attacco base Chia, muovo Questa Qui bisogna rischiare e andare di attacco base Però ho già questa, quindi not bad Ok Mi cura, non mi fido Non mi fido per niente 60 Qui phase E spero che non mi shotti la gente Di nuovo Facciamo la R di nuovo Base Ok, Geppy Facciamo un po' di danno 3% 1100, 1100, 1100 Non posso Qui non posso pure Ho 4 stack Le ha create Le ha create Le ha create Allora Questa 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 Subito Questa 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 Instant questa Instant questa E vai giù Mamma mia che casino ragazzi Mamma mia Andiamo Andiamo Bisogna per forza tirare su L'energy madonna Sempre di un pallino Mi manca Sempre un pallino Mi manca Qui mi tirerà la botta Abbiamo Gecko Facciamo la E Sì No Sì No 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 Base Non si può rischiare Qui non si può rischiare Ancora Base Uuu 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 Che abbiamo Questa Qui abbiamo Questa su di lei E poi Una E due E vaffanculo va Let's go Let's Fucking Go ragazzi Ce l'abbiamo fatta We did it Word say Fatto It's Close Above The ground We got The time We got it now The only one Remain Can Bye 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 Bye